Ottimizzare le vie di comunicazione per gli autotrasportatori e ridurre il traffico pesante e le polveri sottili in via Venezia per aumentarne la sicurezza per gli utenti. Sono gli obiettivi dell'accordo raggiunto dall'amministrazione comunale di Gela con la categoria degli autotrasportatori. È stata fatta un'ordinanza dal sindaco del 15 dicembre 2015 per la sicurezza e i livelli di inquinamento sulla via Venezia perché sono a livelli altissimi. Abbiamo ricevuto le dovute comunicazioni da parte dell'ARPA e degli enti competenti che ci invitavano a risolvere la situazione. Allora l'amministrazione ha fatto un'ordinanza che dalle 7.30 alle 21.30 c'è un divieto di transito per tutti gli autotrasportatori che hanno dei veicoli superiori a 3,5 tonnellate. A questa per consentire l'esercizio delle proprie attività, visto che la via Venezia è piena di attività commerciali, si sono imposte due finestre di tolleranza che vanno dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 17 che consentirà agli autorizzati di poter comunque lavorare. Il fine di questa ordinanza è quella di tutelare soprattutto il passaggio delle scuole per i genitori e i figli durante il periodo di ingresso scolastico. In alternativa percorreranno la famosa strada dei due castelli e quindi bypasseranno la città di Gela se non hanno la necessità di consegnare delle merci sulla città di Gela. È prevista però un'ulteriore tolleranza a seguito di una riunione fatta con i trasportatori. Ci hanno segnalato che la parte che va dalla Stata Statale 115 fino a Vieniscemi al Bivio con lo Stadio Vincenzo Presti e costituisce un'arteria fondamentale per la sosta anche tecnica di urgenza o comunque per caricare e scaricare materiale che proviene dalla stazione nell'eventualità che ci siano dei treni in transito merci. E quindi abbiamo già predisposto una nota interpretativa dal comando di Polizia Municipale per essere utili sulla gestione di queste esigenze dei trasportatori. Grazie. Grazie. Grazie.